Lasciai cinque Daimyo a disputarsi il controllo del loro popolo. Presto la vera forza della loro unità si sarebbe rivelata. Diedi il palazzo a Seijuro. Gli altri quattro sopravvissuti li abbandonammo nella palude. Fu Aiyu a fare la prima mossa. Io fui l'ultima Daimyo liberata nel Mair. Buona caccia. Buona caccia? Apolion credeva che ci saremmo uccisi a vicenda per il potere dell'imperatore. Aveva ragione. I Daimyo da lei scelti erano dei criminali di guerra. Avremmo dilaniato il nostro popolo. Ho trovato il nemico! Ma avrei potuto evitare. Prima ancora che iniziasse. Chi va là? Argeri, tirate! Dove siete finiti? Dove siete finiti? Ranja era devota. Ma la devozione non è... Come non si disonorare questo luogo, Aiyu? Si, si, mi sono Patrice. Come non si capisceva. E' un po' di dope. Che ne sceglieva. Mi piaceva. Il ne vodano. Chi va. Chi va. Gli altri che ti si tratta di fare. Chi va. Chi va. Hai ucciso il tuo predecessore! Sinei! I nostri antenati ci guardano, Aiyu! Sinei! Dove vi ha lasciati, Apollyon? Ho trovato il nemico! Preparati a morire! Tenete duro! Sono qui! Ti ritroverò! Fermi! I nemici stanno per attaccarci! C'è qualcuno! Stiamo allerta! Li troverò. Kisan era avido. Prendeva più di quanto il popolo potesse dargli. Allora, vivrai un altro giorno? Ci hanno trovati! Preccia in volo! Preccia in volo! Preccia in volo! Dove vi nascondete? Sì, Sensei. Il nemico ci è addosso! Spero che il resto del tuo esercito combatta io. Dokuja era un bigliacco. Nella vita aveva avuto ogni cosa, tranne la compassione. Ho trovato il nemico! Codardo! Meglio Codardo che il morto! Codardo! Codardo! Voi siate qui! Noi! Noi. Era fatta. L'imperatore è morto! È stata la legione di Ossidiana! Apollion vuole farci combattere l'uno contro l'altro! Io mi rifiuto! Dobbiamo affrontare una nuova era. Vichinghi. Apollion si pentirà di non avermi uccisa. Vichinghi. Grazie a tutti